Adesso non ci sono più scuse, basta perdere altro tempo. Stefano Molinari, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, già assessore ai lavori pubblici allo sport, commenta così la notizia della consegna della seconda perizia sulla piscina di Muggiò. Nelle scorse ore infatti Palazzo Cernezzi ha fatto sapere che la società incaricata di redigere il documento economico ha ritenuto conveniente per il Comune procedere con la soluzione di parternariato pubblico privato contrattuale. Soluzione presentata da Nessi e Maiocchi e altri partner per rifare completamente l'impianto limpionico, realizzare due altre vasche e gestirle per 20 anni garantendo la manutenzione. Sicuramente si tratta di una notizia positiva, aggiunge Molinari, ma questo non cancella il problema. Il danno di aver fatto scadere senza una reale proposta di rinnovo la convenzione con la federazione nuoto, commenta l'ex assessore. Il mancato rinnovo con il gestore, come evidenzia Molinari, ha portato alla chiusura dell'impianto dal giugno del 2019. Si sarebbero potute fare tutte le manutenzioni necessarie per consentire almeno alle società sportive di riprendere la propria attività. Invece, evidenzia Molinari, hanno subito un danno gravissimo. Fino a ieri l'amministrazione Comasca era chiamata a scegliere tra il progetto dei privati e la perizia redatta dal pool di esperti per un intervento tampone sull'impianto. I tempi per la riapertura, in ogni caso, non saranno brevi. Ora aspetterà alla giunta Comasca a discutere della valutazione finanziaria. Subito dopo Pasqua, mi aspetto che la perizia arrivi in giunta per la prima discussione, dice ancora Molinari. Ho potuto fare un primo esame del progetto, che ritengo valido. Ci potrebbero essere forse alcune migliorie e attraverso il nostro gruppo consigliare presenteremo suggerimenti per rendere l'impianto ancora più fruibile. Ora non ci sono più alibi, basta che si faccia qualcosa perché i due anni di chiusura sono già gravi. In ogni caso ne abbiamo davanti altrettanti senza poter usare la struttura, chiude l'esponente di Fratelli d'Italia.